E non lo dico perché sono russiano ma perché sono sincero. Va bene, ti vedo abbastanza carica ragazzi, va benissimo. Allora, come dicevano prima, abbiamo una piccola sorpresina per voi. Una piccolissima sorpresina. Allora, adesso arriverà a sorpresa il vostro pacco regalo per questa notte. Ragazzi, un bel applauso per Simone. Fatemi andare Simone però tutti in mezzo alle donne. Buonasera. 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 Buonasera.